Musica All'ultimo minuto, all'ultimo istante dell'anno chiede il cambio, è infortunato, al suo posto entra Silenzi. Guardatura per Andrea Silenzi, 33 anni, 3 gol in questa stagione. Soggia dunque rimane in campo, Silenzi in carriera ha segnato 87 reti con le maglie di Lodigiani, Arezzo, Reggiana, Napoli, Torino, Venezia e di nuovo Reggiana. Per lui anche un'esperienza nel calcio inglese, fu uno dei pionieri tra i calciatori italiani nel Manchester United. Senza fortuna, Campolonghi non ci arriva, da linea e poi Berti in anticipo su Cimarelli, rigore, calcio di rigore. Presunto fallo di Berti ai danni di Cimarelli. Attenzione, attenzione, ci sono proteste vibranti, soprattutto di Berti che è già stato ammonito. Espulsione. Espulsione, credo, per... Vediamo l'episodio. Lasciamo giudicare i telespettatori. Espulso intanto Centofanti. Espulso Centofanti al trentottesimo. Per proteste. Calcio di rigore. Una svolta nella partita. Vediamo l'uomo che va dagli undici metri. Vediamo se è possibile inquadrare, dovrebbe essere Cesa. No, non si tratta di Cesa. Vedremo chi ha sistemato il pallone sul dischetto. È traversa. È traversa. Martino traversa contro Gianluca Berti. Poi prego la regia di conservare l'episodio del presunto fallo da rigore. Traversa dagli undici metri. Attenzione perché Berti è il record man. Ha già parato sette rigori in questa stagione. I tifosi incrocino le dita. Traversa contro Berti. Attenzione. Traversa. Tiro. Rete. L'autografo di Martino traversa. Lecce che passa in vantaggio. Lecce 2, Reggiana. Pardon. Lecce 2, Ravenna 1. Il gol sul calcio di rigore di Martino traversa alla seconda rete in Serie B. E fa festa il popolo leccese. Ora siamo ovviamente curiosi di rivedere la trasformazione. Ha intuito Berti ma il pallone è troppo alto per il portiere del Ravenna. Il ruggito di Martino traversa e dunque il risultato cambia qui a Ravenna. Ravenna 1, Lecce 2. Traversa su calcio di rigore. Traversa su calcio di rigore. Raversa su calcio di rigore. Grazie a tutti.